...nada soleggiata, ma dovete immaginare che è assolutamente molto imprimoso, anche perché c'è altri grandi porte, i portali, i portali, i portali, e quelle che sono la luce di vita è un ambiente che si è rilassato, che si è rilassato, che si è rilassato. Questa sala di karma è una opera di un'idea spettacolare, un'idea spettacolare, che dipende di un'idea spettacolare, che è qualcosa che in maniera più grande e importantale, e poi viene da un'idea spettacolare, ma sto parlando di tanto, di un'idea spettacolare, che a Diano, ovviamente, realizzò, ispirandosi tanto alla Lomussauda, che sono in fuori, quindi è quello che io scrivo a Diano, e provando che Diano ha visitato la Lomussauda prima che si è rilassato, e che poteva essere stato fatto? Poi, la verità è anche che sia le loro che adunano, sono affascinati nel nostro oggetto, ho andato in preso da quando mi chiesti in istituzione, sono, e quindi...